buongiorno a tutti amici ben trovati come state avete visto che in commercio sono usciti i nutella muffin beh noi oggi andiamo a realizzarli in casa prima di lasciarvi alla visione del video però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se vi è piaciuta la ricetta mi raccomando mettete un like e qui sotto nel box informazioni trovate l'elenco dettagliato di tutti gli ingredienti e poi amici passate nei commenti anche semplicemente per farmi un saluto quindi amici buona visione a tutti e a presto usiamo come unità di misura un bicchiere di carta ciao 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 e vado a mescolare tutti gli ingredienti insieme con delicatezza facendo attenzione a non smontare le uova ho rivestito il mio stampo da muffin con dei pirottini e con un dispenser vado a porzionare il composto prendo ogni singola pallina di nutella e vado a metterla all'interno del mio muffin faccio cuocere in forno già caldo a 175 gradi per circa 15 minuti c'è chi è cucina c'è chi è cucina Grazie a tutti